Le chiamano scosse di assestamento, ma questa era davvero forte, la più forte dalla catastrofe dell'11 marzo. 7,1 è l'intensità e il Giappone trema al ricordo della strage, 27.000 tra morti e dispersi. Questa volta le vittime sono solo 4, 130 i feriti. Ma uscillano i grattacieli a Tokyo, sembra una barca in tempesta la redazione della TV a Miyagi. In tutta la prefettura e sulla costa nord-est è allarme tsunami, poi l'onda non arriva, ma alla centrale di Fukushima i tecnici che lottano per fermare le fughe di radiazioni vengono brevemente evacuati. E poco dopo, altra brutta notizia, è uscita acqua di raffreddamento dai tre reattori della centrale di Onagawa, disattivata dopo lo tsunami dell'11 marzo. Ci sono otto falle, danni agli strumenti, alle linee elettriche che alimentano gli impianti di raffreddamento, che funzionano ancora, non vengono rilevate radiazioni all'esterno, insomma la TEPCO parla di incidente non grave. Ma è un ulteriore monito su quanto questi impianti siano vulnerabili a scosse di terremoto. Resta la paura, fuggi fuggi tra i clienti di un albergo che sono stati sbalzati nei letti, scappa la gente per la strada, manca la corrente a tre milioni di persone nel nord-est del Giappone e il governo avverte ci saranno altre scosse. Ma questa volta per fortuna non è arrivata l'onda devastatrice e i video che circolano su internet fanno quasi sorridere, come questo in cui lo tsunami è nella vasca dei pesci rossi.